Buongiorno a tutti, vorrei condividere con voi alcune riflessioni sulla dinamica o dialettica tra automatizzazione e deautomatizzazione. Ritengo infatti che qui su questo specifico argomento si concentri la potenzialità di attivazione civile ma anche di espressione personale, individuale nel collettivo che possa veramente costituire la base di una trasformazione epocale per la nostra società. Una società che sia sempre più una società di autori e sempre meno una società di automi. Il concetto di automa e automata accompagna la storia dell'umanità e tutte le culture, da sempre, dai totem alle leggende più particolari e stravaganti, fino ad arrivare alle contemporanee ipotesi di cyborg o addirittura di robot. Il robot che nasce come idea di un'attività di operaiato e non pagato e poi diventa un ghost in a shell, come recitano alcuni manga giapponesi, che si domandano Io robot, come intitolava Asimo. Quindi è un tema che anche con Frankenstein o i grandi miti greci, di Baglione, insomma accompagna veramente la nostra società, la nostra personalità, la nostra persona, anche che si rispecchia in uno specchio d'acqua e riconosce un ente vivente in questa rappresentazione, la rappresentazione viva o invece senza anima. Quindi parlo di qualcosa che in realtà compone il nostro immaginario collettivo, da sempre. Noi italiani abbiamo Pinocchio che si accompagna fin da bambini come riferimento, un burattino che prende vita. Ecco, ma paradossalmente la parola automa nasce per indicare qualcosa dotato di movimento autonomo, autonomo, autonoma. Quindi le radici spesso anche raccontano dei significati a volte nascosti. Quindi qualcosa che è autonomo nel proprio determinarsi e invece poi finisce per significare spesso il contrario, cioè qualcosa che non avrebbe una capacità personale, individuale, autonoma e autodeterminata di vivere, di vita, ma che la deriverebbe interamente dal suo creatore, autore, autore lui e non il soggetto di cui stiamo parlando. E dunque quindi il grande dramma. Quindi quando parlo di automa in queste riflessioni mi riferisco a questa accezione, cioè di un soggetto privo di volontà propria e di capacità di autodeterminazione. Allora, la dimensione automatica della vita appartiene al corredo, al patrimonio che la natura offre tutti gli animali e sicuramente anche gli umani. Ci sono moltissimi automatismi che avvengono per conferire vantaggi ai soggetti che li esercitano. Spesso tante cose le facciamo senza doverci pensare e questo è un bene. Basti considerare tutti i funzionamenti fisiologici, dalla respirazione al battito cardiaco, gli equilibri o le capacità assunte, incorporate e diventate quindi automatismi che dal portare una bicicletta a salutarsi o riconoscersi in situazioni specifiche ci accompagnano nella vita. Ci sono alcune forme di automatismi che sono particolarmente pregnanti nella nostra vita per le quali dobbiamo imparare ad assumere consapevolezza perché lasciar loro troppo spazio tende a privarci di una dimensione di autorialità peraltro essenziale per la nostra felicità e per il benessere collettivo. Cosa mi riferisco? Ne individuiamo quattro ma sono probabilmente parecchie e parecchie di più quindi quattro sulle quali stiamo cominciando ad esplorare la loro dimensione psicosociale. La prima forse la più evidente di tutti è proprio l'abitudine. L'abitudine è come fenomeno che accompagna tantissime nostre attività e acquisizioni di apprendimento che grazie all'abitudine diventano assorbitori di meno energia che la loro prima occorrenza. Per abitudine facciamo moltissime cose e dunque risparmiamo energia e quindi incorporiamo una conoscenza ma se di abitudine finiamo per vivere se permettiamo all'abitudinarietà di conquistare gli spazi della nostra vita sociale, culturale, interiore ma anche pubblica in maniera eccessiva e quindi chi decide fin dove va bene o non va bene. Ma non è tanto questo l'argomento di cui volevo trattare quanto la constatazione che dobbiamo imparare a controbilanciare la spinta naturale all'abitudine. lo sappiamo bene e anche abbiamo sviluppato dei contrapesi e ce n'è uno in particolare che fa proprio a caso della nostra conversazione perché è l'arte, meglio ancora è la creazione, il creare. Ora il creare lo esercitiamo tutti è una facoltà umana e anzi non è solo umana naturalmente vediamo tantissime forme altre di vita creare persino quelle inanimate ma qui ci avventuriamo il mondo del postumano che non volevo trattare qua. Invece la dimensione del creare che l'umano conosce è veramente universale ma come tutte le facoltà se non vengono coltivate, curate, esercitate e allenate si atrofizzano, si tendono ad assumere un carattere di latenza, di dormienza e conosciamo bene come effettivamente molti di noi per molti aspetti della loro vita non esercitano questa capacità di creare ma operano per abitudinarietà. Ecco dunque qua si gioca un equilibrio che viceversa può offrire alla nostra vita i vantaggi del creare, non solo gli svantaggi che naturalmente sono un investimento esistenziale energetico alto, la creazione nasce sempre da una problematicità, no? Quanto esiste non basta, occorre creare quel che ancora non esiste, ciò naturalmente assorbe pathos e ergon, quindi lavoro e dunque io parlo di energia in questo senso, energia della creazione. D'altro canto ci comporta delle occasioni vitali e di miglioramento della nostra condizione anche concreta, straordinaria, basta di pensare a tutte le invenzioni, anche tecniche, anche della tecnica, che ci consegnano la capacità di farci carico dei nostri bisogni, quindi vestire e procurare il cibo e quant'altro. fino a delle bilanzioni ancora più spirituali e tutto il mondo della creazione delle opere, l'arte, del pensiero, delle costruzioni civili eccetera. Quindi riuscire a controbilanciare l'abitudine con il creare qualcosa che si può fare, occorre coltivarlo e dunque coltivare l'arte e la cultura per una società è essenziale anche già solo per questo, per controbilanciare la tendenza naturale ad una totalizzante dimensione dell'abitudine che va bene ma in un equilibrio dinamico, costantemente riprogrammato, che dobbiamo sperimentare. Se è piuttosto facile capire e riferirsi all'abitudine della creazione, è già un po' più ardito fare lo stesso discorso con un'altra dinamica psichica che è quella della paura. La paura nuovamente vediamo che conferisce all'animale che la sente e la sviluppa straordinarie potenzialità perché attraverso la paura noi possiamo reclutare delle capacità di, per esempio, di fuga incredibile, muscolari, capacità di non sentire il dolore, il freddo eccetera, che ci possono realmente salvare, salvare la vita quando nella savana il leone muove le canne e noi con un momento di paura reclutiamo tutte queste capacità e poi ci diamo la fuga e a volte riusciamo anche evidentemente a salvarci. Quindi la natura ci dota del metabolismo, diciamo, della paura per permetterci nell'istante di sottrarci a un pericolo. E poi tanti altri meccanismi seguono altrimenti, che anche li toccheremo. Anche qui, se noi cediamo lo spazio della nostra vita alla paura in maniera eccessiva, ci ritroviamo dunque non soltanto più a scappare quando pensiamo che il leone ci stia minacciando, ma a vivere costantemente sotto la minaccia del leone paralizzante, perché a questo punto lo stato di ipermetabolismo in cui andiamo a vivere, anche cortisolo ad esempio, ha la sua massima espressione, diventa distruttivo per la nostra vita. Paralizzante diventa una cronicizzazione di elementi fobici o psicotici che diventa veramente difficile convivere. Che cosa dunque può essere da noi messo in atto come meccanismo che consente di controbilanciare la paura pure utile fino a un certo punto? La ricerca. La ricerca come attitudine all'esplorazione, alla comprensione del reale e quanto ci può aiutare a non essere succubi della paura per la continuità della nostra vita. Nel caso del leone o del predatore, conoscere i suoi spostamenti, i suoi comportamenti, può aiutarci a individuare dei pattern naturalmente, ma anche a individuare delle debolezze da sfruttare per affrontarlo in maniera definitiva. Quindi la ricerca naturalmente non si applica soltanto nella savana o nella giungla, ma anche nella vita sociale e anche nella vita interindividuale, ancora, anche se non necessariamente collettiva. In questo senso, coltivare ricerca diventa altrettanto essenziale quanto coltivare cultura. La ricerca per affrontare la paura, l'arte, la cultura e la creazione per affrontare l'entropia dell'abitudinarietà. Abbiamo già individuato due elementi. Correndo in questa breve conversazione passo ad un terzo elemento, forse ancora più sottile in questa analisi, che è l'elemento della soggezione. Perché mai la soggezione, se vogliamo usare un termine ancora più forte ed esplicito, la sottomissione, possa rivestire caratteri di utilità? Non è poi così difficile metterlo in evidenza se si considera la vita di un individuo appartenente a un clan che si deve quotidianamente confrontare con il maschio alfa, ad esempio. Non è solo una questione di paura e di ricerca. Qui è proprio una questione di relazione con un'attitudine prevaricatrice, dominatrice, rispetto alla quale la contrapposizione diretta e piena porterebbe alla morte. Perché il maschio alfa è molto più forte di noi. Ma nella vita sociale umana di maschi alfa ne incontriamo tantissimi, non è soltanto il gorilla muscoloso, ma sono le innumerevoli posizioni di potere che vengono giocate nei nostri confronti. Allora la capacità di non rispondere immediatamente al potere con un attacco, con un contrattacco ci consente innanzitutto di prendere la distanza fisica e spesso temporale e di cominciare a lavorare per un approccio razionale, riflessivo e strutturato persino strategico. Questo essenzialmente significa porsi nella condizione di operare in dialogo o una dialettica di confronto con chi sta esercitando il suo imperio nei nostri confronti e spostare allora il confronto dal piano muscolare ad un piano altro, un piano dialettico di una conversazione, di un'interlocuzione, magari di un'interlocuzione di diritti o di diritto o di altre forme e formule che ci consentiranno di entrare in un rapporto dialogico-dialettico di coesistenza con il maschio alfa che non comporti né la nostra soggezione né nemmeno il nostro annientamento. Ecco, potremmo andare avanti, ma vorrei citare per ultimo un quarto elemento di dinamica psichica che è fondamentale trovare il modo di controbilanciare per, ripeto, mi riaggancio all'inizio, per contrastare la spinta all'automatizzazione di comportamenti che accompagnano la nostra vita ma che costituiscono la nostra vita e dunque una vita automatizzata naturalmente diventa una vita non consapevole. Allora, il quarto elemento che volevo chiamare in gioco è l'elemento della conformazione. Il conformarsi alle norme e alle consuetudini, agli usi e costumi della popolazione che sta intorno a noi o presso la quale viviamo, della nostra comunità. La conformazione ci viene offerta anche qui come vocazione istintiva o corredo di una capacità istintiva dalla natura perché ci permette di comunicare, cioè mettere in comunicazione, di rendere comune la nostra vita ed esistenza con i nostri compagni assumendo dei comportamenti conformi che non passano necessariamente attraverso il dialogo verbale o altre forme più esplicite o altre forme più esplicite, i comportamenti conformi. Anche in questo caso, nuovamente, si troviamo di fronte ad una dinamica che se lasciata crescere fino ad occupare parte importante del nostro spazio di vita, finisce per assorbire la nostra caricarità, le nostre potenzialità. Allora come si può ribilanciare, rinegoziare con il consesso comunitario in cui viviamo una ricombinazione delle forme della nostra vita, quindi una non conformazione ma una riformazione dei nostri usi e costumi. Il modo forse più forte e chiaro per andare in quella direzione è l'impegno civico. Entrare in un rapporto di copartecipazione, di coprogettualità della dimensione civile, oserei dire politica, non rifiutandole e fuggendone o in maniera anche forte, violenta, mettendoci in contrasto, ma entrando nelle dinamiche civiche che determinano i comportamenti e le norme, fino appunto anche quelle più esplicitate nel codice normativi o legislativi. Quindi l'impegno politico diventa una forma di esercizio, di una capacità di controbilanciamento, di una spinta all'automatizzazione che la natura ci dà e ci offre, ripeto, per il nostro vantaggio, ma che noi dobbiamo imparare a controbilanciare e quindi a deautomatizzare una parte della nostra vita che è stata automatizzata seguendo in maniera eccessiva questa spinta. Ecco allora che la società degli autori si controbilancia la società degli autori e ovviamente mai come in tempi di tecnica così avanzata e accelerata come quella che viviamo oggi ci chiediamo quanto sia opportuno e necessario esercitare una capacità poietica o poietica, cioè fattiva di creazione rispetto alla nostra vita autoriale di autori. E con questo vorrei chiudere la presentazione degli argomenti che volevo condividere con voi. questi, come si può capire, sono argomenti che costituiscono indirizzi di ricerca sui quali con l'Accademia Unidee del Terzo Paradiso, a Città dell'Arte, abbiamo avviato una serie di attività e che mi ha consentito di mettermi in relazione con diversi autori con i quali conversare su questa questione. Questa ricerca naturalmente, lo dico per finire la contestualizzazione, è la ricerca di base della dimensione di attuazione della filosofia della demopraxia, cioè di questa concezione della vita in comune democratica o della promessa della democrazia come potere del popolo, come governo del popolo, che invece che concentrarsi sulla rivendicazione del potere, del kratos, la dimensione del kratos, si concentra sull'esercizio della praxis, la demopraxia, cioè che l'esercizio delle pratiche nelle nostre comunità di pratica di fatto costituisce già un micro-governo di enorme impatto sulla nostra vita. Questa è la filosofia di base della demopraxia. Ecco, come raggiungerla? Vi sono delle metodologie, in particolare il canovaccio dell'arte della demopraxia che abbiamo avviato e sperimentato e stiamo sperimentando, ma ci sono anche la messa a punto di alcune considerazioni di ordine più psicosociale che ci permettono di capire quali capacità coltivare per meglio accompagnare l'instaurarsi di processi di demopraxia. In queste conversazioni, quindi, abbiamo la fortuna di poterci confrontare con practitioners di diverse materie e pratiche, con scholars di diverse discipline e oggi abbiamo la fortuna di poter lavorare in questo consesso di conversazione con Cristina Gabetti. Quindi, adesso andremo a connetterci con lei in questa conversazione che vogliamo offrire come contributo al Festival delle Periferie 2021. Grazie per avermi seguito fin qui. Passiamo alla seconda sessione di conversazione con Cristina Gabetti che andrò a introdurre. Bene, ben ritrovati. Saluto Cristina Gabetti che passerà questa prossima mezz'ora insieme a me in una conversazione sui temi che vogliamo trattare in questo contributo al Festival delle Periferie 2021. Cristina Gabetti non avrebbe bisogno di introduzione, ma dico soltanto che è come si definisce lei stessa una cittadina impegnata a minimizzare o meglio ancora a rendere positivo il nostro impatto sul pianeta e in questo impegno e percorso si è trovata a rivestire diversi ruoli e come sappiamo quello di giornalista impegnata direttamente in gioco. Quindi ciao, buongiorno Cristina, bentrovata. Buongiorno Paolo. Allora, cominciamo a introdurre l'argomento partendo dalla tua esperienza diretta, tu ti sei occupata sempre delle pratiche di sostenibilità appunto e hai incontrato in questo percorso l'abitudine, hai incontrato cattive abitudini da perdere, insomma, e buone abitudini invece da acquisire. Quindi vorrei concentrare un po' su questo la prima nostra riflessione. Secondo te che ruolo può giocare realmente l'abitudine nel bene o nel male nella nostra vita quotidiana, di cittadini, sia a livello personale sia a livello interpersonale e sociale? L'abitudine ha un ruolo fondamentale. Le nostre vite sono coreografie di abitudini, di gesti e di scelte che compiamo e che sovente ripetiamo in maniera automatica. Noi siamo animali abitudinari e per un certo verso quando abbiamo delle buone abitudini, penso a chi magari ha la consuetudine la mattina di svegliarsi, di fare un po' di movimento fisico, di mangiare qualche cosa di sano, eccetera, allora è positivo. Ma siamo umani e siamo imperfetti e dobbiamo anche abbracciare la nostra umana imperfezione e quindi inevitabilmente quando mi sono trovata a riflettere sul mondo che i miei figli avrebbero ereditato, ho pensato, mossa da un piglio pratico che determina, penso, molti aspetti della mia vita, a indagare l'impatto che abbiamo, che i nostri stili di vita hanno sul pianeta e sulle persone. e mi sono trovata dentro a un enorme divario tra ciò che sappiamo e come abitiamo e quindi mi sono messa in prima persona a sperimentare soluzioni e a rendermi conto che quando andavo a comprare, non so, un detersivo per lavare le cose di casa, ricadevo, non sono necessariamente sullo stesso marchio perché non mi sono mai sentita fedele ai marchi, però magari nello stesso angolo del supermercato o del luogo dove andavo a comprare. Ho capito che per cambiare abitudini, perché ho iniziato a studiare, ho capito che ci sono un sacco di nemici visibili e invisibili, come potevo gestire quelli visibili e invisibili, che cosa comportava. e mi sono accorta che se volevo ridurre il mio impatto e dovevo fare più chilometri per andare a prendere qualche cosa che non era disponibile vicino, avrei compensato automaticamente. Quindi tutte queste sono abitudini. Se io vado dal punto A al punto B, solitamente tutti i giorni, tenderò a fare la stessa strada. Cambiando abitudini per forza di cose, per forza di cose, in realtà è una missione nella quale mi sono tuffata io, nessuno mi ha obbligato, ma ho capito che la prima leva era proprio quella di diventare consapevoli di quali abitudini fossero benefiche, quali non lo fossero e cosa voleva dire cambiare abitudini. Quando uscì il mio primo libro nel 2008, Tentativi di ecocondotta, che era una raccolta delle esperienze, delle indagini che avevo fatto, le persone mi chiedevano spesso ma ci vuole molto più tempo per andare fuori mano, per andare a un mercato dei contadini che magari non hai vicino a casa, per usare i mezzi pubblici invece che la macchina privata. In realtà si tratta proprio invece di compensare e di rendersi conto che a volte sì, ci possono volere dieci minuti in più a fare una cosa, però magari posso anche rischiare di sorprendermi, di scoprire un angolo della città che non conoscevo. Cioè, ho allargato molto questa missione di cambiare abitudini rendendomi anche conto appunto che certe abitudini invece poi non le volevo cambiare. Cioè, e allora poi lì di nuovo diventa un'indagine di se stessi, di introspezione, perché non le voglio cambiare. Cioè, a cosa sono fedele, a cosa non sono fedele. Insomma, è diventato un viaggio molto introspettivo ma di grande trasformazione, di grandissima soddisfazione, molto creativo. Ci vuole curiosità per cambiare abitudini. Senza di quello penso che siamo spacciati. Oppure bisogna essere calvinisti, ecco. Non si deve dare un rigore massimo e imporsi. Se lo si fa per... Tu parli di cosa ci vuole. Questo è un tema fondamentale che vorrei aiutare, che vorrei aiutarsi a snocciolare e mettere in evidenza bene a poco. Cosa appunto occorre? Quali capacità, facoltà o quali pratiche quotidiane possiamo promuovere per diventare capaci di acquisire la consapevolezza di cui tu parli, delle abitudini in generale e quindi riflettendo, capire quali ci fanno male, quali ci farebbero, ci fanno bene. Io penso ad esempio a Gurdjieff, il fantomatico personaggio di inizio secolo scorso che faceva compiere dei movimenti, delle ginnastiche delle danze che facevano assumere al corpo delle posizioni awkward, delle posizioni strane, non abituali appunto. E attraverso questa uscita dall'abitudine anche proprio fisica pensava, riteneva, di innescare le condizioni favorevoli a dei processi psichici per cui avremmo potuto, si sarebbe potuto liberarsi da tante altre abitudini ben più problematiche di quelle magari posturali che affliggono la nostra psiche. quali possono essere dei percorsi per favorire questi esiti? Questa intanto è una, la strada di Gurdjieff è meravigliosa da questo punto di vista e anche il respiro per dire ha un forte impatto sulla trasformazione, è un atto di trasformazione ma è anche un'abitudine ed è anche un'abitudine inconscia per cui portare attenzione al respiro è molto potente anche cercare di sintonizzarsi su come ci si sente respirando in un modo piuttosto che in un altro e lo yoga è pieno di, ma non solo, di tecniche di respirazione e si può partire da una, diciamo, una disciplina strutturata oppure si può anche improvvisare. Io mi ricordo che ci sono stati dei momenti in cui proprio mi sono chiesta perché bisogna sempre essere così fedeli a se stessi. Se immaginiamo la coreografia della nostra vita abbiamo voglia di essere sempre allo stesso modo ma che noia, no? Però ogni tanto sperimento e ti succede che poi gli altri attorno iniziano a dirti cos'hai? Sei strano. Perché? Quindi sto attraversando una fase anche in questi giorni in cui proprio mi piace vedere come un fare diverso inneschi una serie di reazioni perché bisogna anche riflettere su questo, cioè le abitudini hanno un impatto diciamo sulla nostra nel corso della nostra vita cumulativa perché giorno dopo giorno dopo giorno ripetiamo dei gesti, compiamo dei gesti che possono essere rigeneranti o distruttivi ma hanno anche un impatto verso l'esterno perché il modo in cui io mi atteggio ha un impatto su di te. Allora nel mio ultimo libro invece che si chiama Passo Leggero ho esplorato ho raccontato vissuto e poi ho raccontato delle esperienze di empatia con la vita e con le cose. A un certo punto racconto la storia di io stavo legando la bicicletta un giorno ad un palo e di fianco cioè proprio per via anche di come ero messa vedo un signore seduto in macchina col finestrino abbassato che sta finendo la sigaretta e la fa cadere dalle mani e la tipica risposta sarebbe di insulto ma cosa fa oppure di indifferenza perché tanto ci sentiamo impotenti e io invece mi sono trovata spontaneamente a dirgli anche perché praticamente si sono incrociati i nostri sguardi ma perché questo lo ha completamente destabilizzato tant'è che ha tentato di aprire la portiera poi c'era il palo davanti insomma si è dato da fare poi per tirare via la cica che l'ha buttata a terra ma questo per dire che era un'inconsueta reazione di dire perché quindi io credo che si tratta di fare un po' scacco alla mente e capire qual è ovviamente l'obiettivo quindi a cosa cosa serve in primis la decisione di volersi mettere quando si dice mettersi in gioco alla fine e si tratta di questo quindi primo bisogna scegliere di volerlo fare perché io credo che abbiamo già abbastanza doveri e non vogliamo sentirci imporre altre cose oltre a quelle tante che abbiamo già quindi attivare la volontà poi attivare la creatività appassionarsi a questa sfida che non solo è necessaria ma se ha la partecipazione diciamo viva di tutti quanti meglio è rendendosi conto che ovviamente c'è livello e livello di sfida c'è chi la sfida non la può accogliere perché non è in condizioni di scegliere e allora è qui che la società umana può fare grandi cose creando rete creando dinamiche che sono un po' delle staffette come si può anche lì poi secondo me bisogna uscire bisogna autorizzarsi e uscire un po' dalla mentalità del piccolo me o del piccolo me o dell'indifferente perché c'è modo oggi di raggiungere anche luoghi remoti popolazioni o comunità che sono in difficoltà quindi ecco non voglio farla facile ma noi che abbiamo la facoltà di scegliere sappiamo di avere un dovere ma se non lo viviamo come dovere ma come invito e come stimolo e lo abbracciamo con curiosità e creatività arriveremo molto più lontano mi piace molto questo riferimento all'autorizzazione che fa pensare nell'accezione comune a qualcosa che viene da fuori qualcuno che ti autorizzi e te la dia e invece qualcosa che come esprimi ci dobbiamo dare dobbiamo renderci autori appunto attraverso questo farci autori che autorizzarsi significa quindi mi sembra un punto molto forte che metti in evidenza e vorrei anche collegarmi a questo riferimento che hai fatto al respiro il respiro è come componente essenziale con cui mettersi in connessione con se stessi con il resto del mondo e anche esplorare le dimensioni della di un possibile scacco alla mente come l'hai chiamato perché il respiro come la pandemia ci ha in maniera scioccante fatto comprendere è una condizione che ci fa capire come noi siamo immersi e qui anche recupero un po' i pensieri di Emanuele Coccia con il suo splendido libro sulla vita delle piante siamo immersi in un oceano d'aria l'atmosfera che è prodotta dalle piante è il grande dono che loro che loro fanno alla vita al pianeta ma noi in questa immersione paradossalmente poi respirando portiamo dentro di noi il fuori e quindi effettivamente forse si capisce perché lo spirito abbiamo sempre associato spirito e respiro perché la spiritualità è questo sentirsi dentro il tutto ma anche poter avere in sé accogliere in sé il tutto anche in una condizione di condivisione con gli altri fortissima se ci pensi è quasi sconcia questa promiscuità dell'essere in un'unica immersi in un'unica sostanza e questa sostanza introiettarla e introiettarla continuamente scambiarsela come appunto la pandemia ci ha ben dimostrato cosa che in realtà è bellissima ma la pandemia in qualche modo sfrutta questa splendida nostra capacità di condivisione così intima e corporea e immanente la sfrutta per i propri fini virali quindi hai accennato partendo appunto da questa dimensione di una in fondo una condivisione di realtà così profonda che inevitabilmente tra umani e non umani ma anche rimanendo nella ristretta cerchia degli umani antropocenici effettivamente c'è una profonda condivisione ma ci sono delle cose che ci impediscono di di connettere in maniera concreta pratica operativa orientata sistematica funzionale gli uni con gli altri tu hai citato le reti le dinamiche le staffette che si possono mettere in atto ecco nella tua esperienza anche di innumerevoli storie di buone pratiche concrete che guardano al futuro come con l'occhio al futuro ci inviti a tenere pronta la considerazione quali come dire quali variabili critiche cruciali si possono individuare proprio per la messa in rete per la collaborazione per mettersi in gioco ma in un gioco collettivo per andare a giocare una bella partita tutti insieme in un campo comune ma è l'intento io credo che noi oggi l'anno scorso ho intervistato Federico Faggin che ha diciamo reso i computer ha inventato il microchip per cui ha potenziato l'intelligenza diciamo della macchina l'efficienza della macchina e al tempo quando quando questo avvenne alla alla fine degli anni sessanta inizio anni settanta immaginava che il passo successivo sarebbe stato di disegnare di progettare delle macchine coscienti eh perché capaci di performare dunque anche capaci di eh poi decidere consciamente o con una cognizione di causa per poi scoprire che eh in realtà questo non è assolutamente possibile perché la coscienza è diciamo mh siamo immersi anche in un campo di coscienza non è autogenerata la scarichiamo in un certo senso dal dall'universo e poi di questo si apre a mille possibili declinazioni ma il a un certo punto nella nostra conversazione lui dice eh quando io gli ho chiesto se secondo lui vinceremo le grandi sfide del nostro tempo dice abbiamo già e che tecnologia potremmo pensare di avere dice abbiamo già una tecnologia che è in grado di muovere il mondo intero in poco tempo anche in un giorno se vogliamo che non connette ancora tutta l'umanità ma ne connette già una buona parte che internet serve però a monte un intento cioè noi vogliamo metterci d'accordo sul fatto che la priorità massima è di ritrovare un equilibrio all'interno di una dinamica sistemica sofisticatissima meravigliosa che dovrebbe destarci stupore ogni volta che inspiriamo ed espiriamo cioè è magico quello che produce anche solo ogni respiro e quindi insomma con l'intento si può andare molto lontani certo incontrerai delle avversità incontrerai degli ostacoli ma l'intento è quello che poi alla fine ci muove se non vogliamo essere automi e pilotati da altro no quindi l'azione sull'intento e quindi la consapevolezza sono sono sì doti coscienti ma sono anche sono doni dello spirito cioè noi abbiamo siamo disegnati in un modo fenomenale perché abbiamo il piano del cuore che è sede probabilmente anche dello spirito della mente e poi della creatività della volontà se noi riusciamo a orchestrare le nostre parti diverse come un unicum rendendoci conto che devono collaborare costantemente l'una con l'altra e non invece prevaricare noi tendiamo ad essere molto nella testa per cui il cuore si sente isolato poi quando entra in gioco il cuore è talmente poverino carente di attenzione che predomina allora si diventa troppo emotivi quando si va troppo di pancia non si è ecco quindi già onorando la nostra ricchezza e capendo che siamo un sistema complesso tanto dentro quanto fuori perché poi questi piani dell'esistenza li troviamo anche fuori tanto più riusciremo a usarle insieme a concertarle per avere dei risultati efficaci ma ci vuole una dose di spiritualità e il problema è che la parola spiritualità fa venire l'orticaria a chi non abbraccia già un percorso suo di ricerca e di pratica e quindi bisogna anche anche lì quando si parla di prima ho detto scacco matto abbiamo anche delle abitudini delle consuetudini a come reagiamo alle parole a come reagiamo ai gesti ci capita a tutti noi in famiglia di guardare una cosa si è arrabbiato no onestamente ma che cioè viviamo molto in dinamiche di reazione abitudinaria qui invece si tratta di trovare una dinamica di azione proattiva che non sia abitudinario oppure che riconosca l'abitudine per il suo valore e la chiave non sta solo nello spirito sta nel nostro insieme quindi mi verrebbe da dire che è incontrando i nostri squilibri che possiamo voler essere motivati dall'impostare un nuovo equilibrio oppure quel momento meraviglioso di equilibrio che io mi ricordo che quando iniziai a praticare yoga pensavo che conquisterò finalmente un equilibrio un equilibrio per la sua tu vai in barca anche a me piace stare in barca l'equilibrio lo cerchi sempre non arrivi mai al punto di equilibrio come dici ci sono arrivato lo perdi subito quindi se insomma si tratta poi alla fine di essere ripeto forse curiosi perché quando poi tutto questo lo comprendi ti rendi conto che abbiamo un potere enorme e dobbiamo solo capire come come fare rete con persone affini ma anche come raggiungere persone che la vedono diversamente e e non non scoraggiarci ecco non pensare che questa sfida è più grande di noi perché è grande l'abbiamo lasciata diventare così grande ma è la nostra unica possibilità a meno che insomma vogliamo lasciare spazio a quelle immagini distopiche che purtroppo ci fanno intendere una realtà possibile ecco vorrei portarti anche su un altro campo un tema che viene spesso utilizzato secondo me nella nostra cultura contemporanea particolarmente nell'Italia cattocomunista ma anche anche all'estero come una sorta di anche qui di barriera per impedire i cambiamenti di cui stiamo parlando ho l'impressione vorrei sentire la tua opinione a proposito che spesso vi sia un pregiudizio nei confronti della possibilità di abbracciare il cambiamento perché questo sarebbe raggiungibile per chi se lo può permettere quindi ad esempio visto che qui siamo in un contesto di centro periferia festival della periferia eccetera le periferie associate nell'immaginario collettivo a una minore possibilità di accesso ai servizi della modernità e quindi a quel benessere economico soprattutto ma non solo che il novecento ha propagandato a lungo costoro sarebbero in una posizione per via di un censo inferiore rispetto a chi è in centro o a chi ha opportunità di anche proprio di reddito economico più alto questi sarebbero in una condizione di maggiore difficoltà a farsi portatori sani nella propria vita e nel proprio nella propria comunità di pratiche di consapevolezza di cambiamento responsabile di sostenibilità a 360 gradi o a 17 settori e spicchi come gli obiettivi ecco al di là del fatto che questi pregiudizi così anche estremizzati naturalmente sono continuamente contraddetti basti anche solo pensare appunto quanto la consapevolezza di nuovo della pandemia ci abbia fatto riscoprire le virtù della campagna e dunque anche di quella marginalità rispetto al centro che la periferia si associa e i problemi della città inscatolata per quanto Shining o come l'India degli anni 2000 o la Milano degli anni 80 ecco visto che i ragionamenti che stiamo facendo sono talvolta neutralizzati proprio in termini gramsciani cioè vengono bloccati e la loro potenzialità di contribuire a un cambiamento azzerata con il pregiudizio del censo come se fossero dunque raggiungibili praticabili solo da chi se lo può permettere tu ritieni nella tua esperienza anche di più di un decennio oltre di ricerca in queste queste lande del cambiamento della consapevolezza della sostenibilità che questo sia un fattore importante decisivo o che vi siano modi per neutralizzare questo fattore neutralizzante a sua volta è una meta domanda esistono alcuni fattori che impongono soluzioni a realtà diciamo locali in alcune popolazioni anche indigene e che di cui diciamo le conseguenze e l'impatto si scoprono purtroppo solo alla realtà dei fatti ascoltavo il nuovo podcast di Paola Antonelli che non solo è un'amica ma è una donna che rispetto profondamente i podcast di Broken Nature Broken Nature è la triennale che lei ha curato alla triennale e il primo episodio parla di di quanto l'industria agroindustria del mais abbia avuto un impatto molto forte anche su comunità indigene che si sono trovate diciamo ad avere un prezzo troppo alto per coltivare e lavorare il loro prodotto confronto ai prezzi molto bassi diciamo del 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 mais che poi viene esportato dagli Stati Uniti e quindi l'aspetto del prezzo è importante perché e c'è una differenza enorme tra il prezzo il costo ma fin quando le esternalità non saranno incluse nei costi nel diciamo nel prezzo delle cose sembrerà cioè questo squilibrio non sarà così evidente questa pandemia credo che per molti abbia portato ad una riscoperta della vita più rurale e la meraviglia è che poi sei a contatto anche con un'economia locale ti rendi conto quanto di quanto puoi guadagnare in qualità e di quanto meno spendi ma ci sono delle aree che sono così cioè protette dal metasistema oppure non lo sono nel senso che esiste sempre l'ipermercato dove trovi tutto diciamo scontato però esistono anche i mercati dove vengono i contadini e ti rendi conto che un chilo di patate costa un euro e sono delle patate squisite mentre probabilmente spenderesti lo stesso in un supermercato ma se ti informi capisci la filiera la differenza e dunque l'impatto lungo la strada che ha automaticamente il valore si si inverte a monte di tutti questi esercizi quindi c'è un discorso di disponibilità di prodotti di qualità ad un prezzo accessibile che siano in grado di contrastare il basso costo di prodotti invece prodotti da industrie molto impattanti e molto vaste ma c'è appunto a monte anche un fatto di educazione di comprensione di questi sistemi e ci sono tanti ho avuto la fortuna di incontrare negli anni imprenditori sociali che lavorano per questo che portano opportunità di educazione nelle periferie che portano anche delle grandi città perché quando io penso periferia penso soprattutto alle frange diciamo delle grandi metropoli esiste per fortuna sempre più consapevolezza anche a Milano e credo che si stia facendo un ottimo lavoro in questo senso di recupero delle periferie di insediamento di progetti che possono aiutare la cittadinanza a essere consapevole di avere delle scelte perché riconduciamo il discorso un po' all'inizio della conversazione abitudini sì no hai scelta o non hai scelta tante volte si pensa a non avere la scelta anche se la si ha tante volte purtroppo la scelta bisogna proprio andarla a cercare il l'agenda 20-30 per riportarla nella conversazione perché alla prima domanda io poi mi dilungo per cui è saltato il riferimento all'agenda ci dà una fotografia abbastanza preoccupante dell'aumento dei divari perché poi si tratta di questo apportare un cambiamento mettere in moto un cambiamento distingue chi se lo può permettere da chi non è una risposta complessa ma ripeto e il divario cresce tra chi ha e chi non ha anche a causa della pandemia però penso che ci sia moltissima intelligenza che viene sprigionata e ne sappiamo ne siamo sempre più consapevoli grazie alla rete in luoghi di cosiddetto disagio ho raccontato la settimana scorsa in televisione di una app che si chiama Migrants è la prima app creata da migranti per migranti e consente a chi si registra una piattaforma di condividere i propri talenti e le proprie capacità e quindi di sperare in un lavoro più dignitoso rispetto a diciamo quello che un migrante spesso pensa di poter avere perché non non si sente sufficiente e quindi questo apre un mondo di possibilità la tecnologia in un certo senso può aiutare a unire dei lembi che sembrano molto distanti ci sono modi per calcolare il proprio impatto ci sono modi per appunto sostenere comunità in difficoltà ci sono attività meravigliose anche di di crowdfunding per cui io penso che è rischioso allora è rischioso limitarsi senza aver provato senza aver esplorato delle soluzioni perché poi ci si isola dobbiamo avere un sacro rispetto per chi comunque vive gli effetti più forti della dei cambiamenti climatici e della pandemia e torno a dire che però è nello spirito che uno può trovare poi la forza di perseverare perché una risposta unica non c'è sicuramente chi può scegliere ha il dovere di farlo ecco perché non vale difficile dire ma chi non può scegliere è spacciato e no io voglio voglio sperare che che le storie di resilienza che vediamo e che sentiamo spesso attorno a noi si moltiplichino ma noi sicuramente possiamo e dobbiamo essere agenti del cambiamento ecco perché ci sono anche molte persone che ancora si rifugiano nella zona di conforto se possono e quello è un aspetto di nuovo interiore perché la zona di conforto è un posto dove ci si annida per dire è tutto ok non devo cambiare niente sì grazie abbiamo toccato due argomenti che sono al centro della riflessione contemporanea che sono possono essere espressi da questi due termini di incorporazione cioè i processi le ricerche le risorse anche i nostri umani sono incorporate nel nostro corpo quindi appartengono a questa dimensione fisica concreta anche anche molto limitata è la situatedness essere situato qualunque situazione qualunque realtà qualunque fenomeno e qualunque vita che noi stiamo vivendo avviene in uno spazio-tempo ma soprattutto anche in uno spazio in un luogo e questo luogo porta con sé delle constraints o delle opportunità dei limiti o invece delle opportunità imparare a conoscerli rendersene conto aiuta naturalmente a superarli basti pensare alla scuola che a Padurai e altri hanno creato a Mumbai che si chiama Pukar che è in uno slam e che si occupa proprio di documentare la realtà che ti sta intorno quindi diventare capace di vedere e di raccontare quanto ti sta intorno come primo passo per emanciparti dall'esterno soggetto senza speranza e parliamo di situazioni molto forti che mi fanno venire in mente quando a Medellin nel primi anni 2000 lavoravamo presso il subborgo di Moravia che è una collinetta costruita sulle sulla immondizia raccolta negli anni 50 e 60 ma è una collinetta dove vivono o vivevano 60.000 persone e che sono dovute si sono dovute rilocalizzare rispostare rispostare perché ormai le condizioni erano diventate talmente problematiche che c'erano esplosioni o possibilità di esplosioni per i gas che risalivano da questo cumulo di macerie di detriti e di spazzatura in questo momento di transizione molto problematica si può immaginare a casa loro comunque una leader comunitaria una giovanissima attivista che si chiamava Sielo Cielo aveva 20 anni ed era già stata nominata da un gruppo di referenti del territorio come una leader lei giorno studiava e la sera andava a vendere come ambulante degli alimenti con un carrettino ebbene ci porta a fare un sopralluogo perché dovevamo fare un intervento insieme e dice vedi questo spazio qui vi faremo un centro culturale e avendo visto la situazione spesso senza servizi di fognature o di acqua corrente di elettricità le chiesi ma com'è che questa sia una priorità per voi rispetto a queste altre priorità che vediamo e come fai a giustificarlo no? e lei diceva guarda che non sono io a proporlo ma sono gli abitanti che mi che mi hanno detto qui vogliamo un luogo dove venire a leggere imparare a leggere dove i nostri è meraviglia e lì mi sono trovato di fronte alla constatazione come questa dimensione del del censo pure così significativa però poi a Mumbai come a Medellin in condizioni che sono non credo paragonabili a Scampia o allo Zen o alle periferie di Milano abbiamo delle delle prove di incredibile consapevolezza e non rivendicazione ma ambizione ambizione senza sì sì ambizione esattamente è proprio così ci sono e quando ero andata nella Silicon Valley un po' di anni fa a scoprire diciamo le tecnologie più futuribili possibili perché siamo convinti che vengano da lì si diceva eh ma quando tutto il mondo sarà in rete emergeranno delle delle nuove intelligenze ed è proprio così appunto l'esperienza di di questa app che ho raccontato la settimana scorsa ne è stata ne è stata conferma tante persone che hanno fame nel senso di Steve Jobs che aveva detto stay hungry ecco il quella è la quella è una motivazione che sgorga proprio da un un bisogno animico di 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 avere la propria possibilità di esprimersi finalmente di avere un impatto nel mondo io su questo ho tantissima fiducia quindi penso che per sintetizzare insomma con grande rispetto ma non cerchiamo di non darci per vinti e quando abbiamo la possibilità di allungare la mano a chi invece è in difficoltà facciamolo con uno sguardo con un gesto con un contributo offrendo un'informazione sentiamoci veramente tutti un unicum perché l'umanità è un metasistema e che se mosso dalla giusta dal giusto intento può sicuramente avere un grandissimo impatto sarebbe un peccato perdere diciamo tutta l'intelligenza che l'umanità è stata in grado di manifestare sin qua perché ci sentiamo arroganti o indifferenti o se vogliamo esercitare un controllo perché in realtà viviamo in un sistema che risponde ad una regola sola che è quella della collaborazione e che ne richiede un'altra che è quella del rispetto non puoi collaborare se non rispetti e se noi non ci rendiamo conto a partire da ogni respiro che compiamo la mattina che siamo in una meravigliosa danza di interdipendenza e che il nostro rispetto per quello che immettiamo nel metasistema poi fa la differenza su quello che portiamo dentro i nostri organismi ecco se non c'è questa lapalissiana comprensione non solo con la testa ma con tutti i piani del nostro essere allora la vedo un po' difficile ma ho fiducia che ce la si farà e ti ringrazio molto per questa conversazione se posso ancora riportarti per l'ultima questione che vorrei affrontare con te che è un po' più brosaica perché è il PNRR il Recovery Fund un tuo parere riguardo a questa questione in particolare essendoti occupata da sempre di sostenibilità pratica sostenibile di sviluppo sostenibile come si diceva una volta oggi vediamo che il PNRR con nuove dotazioni finanziarie pone come notevole evidenza la sostenibilità in diversi aspetti come un faro una prospettiva concreta operativa se tu potessi so che hai già avuto potrai avere il futuro occasione di farlo veramente di parlare con Giovannini o con altri nostri ministri che si dovranno e si stanno occupando di implementare un piano nazionale a proposito qual è quale consiglio sentiresti di offrire io ho intervistato Cingolani che andrà in onda l'ultima puntata della stagione televisiva sabato 12 ed è stato insomma diciamo è stato un piacere incontrarlo parlarne e ho capito che diciamo in sintesi bisogna deburocratizzare i sistemi sicuramente abbiamo tantissimi paletti che rendono il passaggio da un'idea o un progetto alla sua realizzazione estremamente complesso e credo che anche voi a Città dell'Arte ne sappiate qualcosa credo che ci dobbiamo tutti sforzare chi lo comprende di più ad aiutare le persone a capire cosa significa la transizione perché non è che quando sei in transizione non è che finisci repentinamente una cosa e ne metti in piedi un'altra c'è è come svezzare un bambino non è che lo stacchi dalla tetta e gli dai subito una bistecca ci sono dei passaggi in questa transizione che noi ecologica che siamo chiamati a mettere in atto e che richiede sì risorse economiche ma richiede risorse spirituali e mentali da parte di ciascuno di noi questa transizione deve essere graduale perenne mila motivi quando si parla di nuovi posti di lavoro è vero è importante ma le persone vanno educate per poterli svolgere poi quei cosiddetti nuovi lavori perché ce ne saranno e ce ne sono già tanti e quindi il anche qui ecco capire cosa vuol dire resilienza perché la resilienza è quella proprietà che nasce dal mondo tessile termine di riprendere la forma questo perché avremo molte sollecitazioni che ci obbligheranno a rimetterci in piedi a ritrovare una forma a ritrovare una modalità è una sfida altamente collaborativa sono penso che Cingolani sia la persona giusta per il ruolo che ricopre in questo momento ma anche Giovannini sicuramente ha una comprensione unica nella compagine di governo penso dell'agenda 20-30 di che cosa comporti c'è un'enorme responsabilità da parte dei media e secondo me molti che comunicano non hanno ben chiari i processi e le complessità per cui si spara una volta dei titoli che sono fuorvianti invece che aiutare le persone a capire e quindi siamo chiamati a io penso che la miglior cosa sia di svegliarsi la mattina e dire cosa posso fare io oggi per far sì che pian piano decarbonizziamo le attività umane e poi il più possibile rendiamo i nostri gesti rigenerativi di fatto si tratta poi di questo non c'è più tempo di dire ah ma finché non si muovono le grandi industrie il mio impatto è inutile no siamo tutti chiamati a fare il massimo possibile e con un occhio sui cambiamenti che possiamo mettere in atto oggi è un occhio invece di curiosità e restando informati di ricerche avanzate che oggi si stanno facendo e che porteranno chissà quali risultati d'altronde chi pensava all'inizio degli anni 90 che avremmo avuto neanche dieci anni dopo un oggetto in tasca che ne contiene 50 no dalla pila all'orologio al registratore alla macchina fotografica alla videocamera cioè non avevamo idea quindi bisogna anche secondo me stare aperti e non cadere nella facile tentazione di avere opinioni o pregiudizi tu hai parlato di pregiudizi il pregiudizio onestamente è limitante perché è un giudizio che precede una cosa che non è ancora visto o di cui comprendi una piccola parte siamo chiamati a fare più ricerca possibile per comprendere quello che non sappiamo poi non tutto può essere compreso prendiamo l'esempio della pandemia ci sono molte zone grigie ognuno poi è chiamato ecco mi aggancio alla pandemia per dire che la più grande sfida collettiva che abbiamo mai avuto di fatto genera un risponso profondamente personale e individuale ognuno si porta dietro le proprie idee le proprie attitudini l'importante credo è di di essere fedeli ad abitudini perché abbiamo parlato di abitudini di rispetto e di distanza di non abbracciare delle certezze quando non le possiamo avere e per cui io penso che siamo ben allenati da questo momento per comprendere qual è il giusto atteggiamento da avere nei confronti dei cambiamenti che ci attendono che passano molto per tornare anche al tema di di questa di questo evento di 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 avvicinarci con curiosità e con rispetto alle periferie chiedendoci che cosa possiamo offrire cosa possiamo portare perché uno stimolo creativo un evento artistico una conferenza un convegno un momento di ascolto una visita sono tutte attività che possono aiutare a diciamo ad unire i lembi o a dare una prospettiva di possibilità a chi magari oggi pensa di non averla con la giusta distanza che questa pandemia ci impone ma con spirito di partecipazione e sentendoci tutti veramente chiamati in causa perché il destino su questo pianeta poi alla fine è uno e c'è chi magari soffre prima ma andiamo tutti verso delle sofferenze di cui non abbiamo neanche idea se non ci diamo da fare quindi diamoci da fare bene grazie mille chiudiamo allora questa conversazione in riferimento alla nostra l'occasione che ci ha riuniti che è appunto il festival delle periferie di Roma periferie di tutto il mondo ma a Roma si tiene il festival il nostro ragionamento partendo dall'esperienza di Cristina Gavetti e dalle considerazioni che avevamo abbiamo posto sul tavolo riguardo all'abitudine alla deautomatizzazione possiamo anche rinquadrarlo dicendo che poiché i centri sono dove le cose avvengono Pistoletto per citare il nostro primo maestro dice questo il centro dove le cose avvengono allora far avvenire le cose dandosi da fare come diceva Cristina mettendosi in gioco ci permette di passare appunto dall'essere automi all'essere autori e trasformare la periferia per lo meno in un pericentro uno dei tanti pericentri che costituiscono una maglia la vera maglia perché poi di fatto quando attraversiamo i bordi di una città così come la transizione e un graduale processo promiscuo altrettanto avviene per il centro e la periferia con i limiti e le opportunità che entrambi possono offrire quindi forse il pericentro come luogo in cui noi facciamo avvenire le cose rendendoci la responsabilità del nostro respiro del nostro corpo e della nostra attività di impegno civile può essere il modo interessante di avventurarci in questo discorso grazie Paolo a presto grazie infinito arrivederci a presto